E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano e questo è G-Magimod E oggi siamo nuovamente in compagnia di Espigiochi e del suo fedele alleato Luca Ovviamente trovate il link in descrizione del canale di Espigiochi E Luca no, non ha un canale, visto che in tantissimi ce l'avete chiesto Esattamente, per oggi abbiamo scelto la nostra modalità forse in assoluto preferita di G-Mod Si chiama Propant E molto semplicemente ci si può trasformare in qualsiasi oggetto nella mappa Come vedete in questo momento c'è un frigorifero che si sta muovendo Non so bene neanche io perché Però ci si può trasformare in qualsiasi oggetto della mappa e nascondersi Ditemi che non è meraviglioso Andiamo, andiamo Io so dove nascondermi Che è che seguiamo questa volta? Venite con me, venite con me Ok, arrivo A quel posto lì? No, non ci si può andare Luca Non ci si può andare Nel parco andiamo Volevo dire Nella discarica Cosa? Porca miseria Niente? Non ho detto niente Salta sul letto Espi Porca miseria Salta sul letto Steffi il fumo fa male Sono partita Espi ma lo smetti porca miseria Ok Porca miseria Se Espi stava dicendo cocò vuol dire che siete nel cortile da qualche parte Io non lo sopporto più Volevo dire pau pau Espi ti dico una cosa Ok, questa è una minaccia Se quando morirai, perché sappiamo entrambi che tu morirai No Dici dove mi trovo Ok Ti faccio arrivare mille dislikes al video No Va bene Quindi quando morirai, tu non dici nulla Perché sto cercando di fare la cosa più geniale del mondo e non me la faccio rovinare Ah, qui avete buttato già tutto Quindi ci Ok Ho visto qualcuno Non crederci Ah, lì sotto Chi è? Chi è? Ma sono ancora nel giardino loro Tu stai zitto che ci sei pure tu, guarda Non ci sono nel giardino io Me ne sono andato dopo che Espi ha detto che eravamo lì No, siete in zona Io lo so Io sono nella chiesa, ragazzi Io sono nella chiesa Venite, venite Non è vero? Sì, sono nella chiesa Aspetta, sento versi Sì, ero io È il mio stomaco, scusami Mi è partito il verso per sbaglio Quindi Luca e Espi dove siete? Nel giardino? Io sono nella chiesa Risolto No, Luca, ci sei davvero? Davvero? Cosa sta succedendo? Ma dai, non ci credo Col tipo di in chiesa No, io e Luca dobbiamo fare un esperimento per combinare i nostri cervelli Perché sono talmente uguali che potrebbe uscire qualcosa di davvero strano Non è possibile Dai, ma sono almeno vicino a voi, Seri Se sono in zona Non ce la posso fare Io non so dove sei Cioè, se sei nella chiesa Sono nella chiesa, brutto disgraziato Io sono davvero nella chiesa Perché noi siamo nella chiesa La chiesa Siamo nella chiesa Espi non so se sei nella chiesa Sinceramente Continua a fare i versi da gallina Non so dove sia però Espi, ti prego, battene Fatti vincere Sento i suoni ma non capisco dove sei Ok Stai lì fermo, ti prego Sì Ferre, siamo nella chiesa al pieno di sopra Prova a venire a vedere se ci trovi No, sento i rumori da questa parte Ferre, te lo sto giurando Siamo nella chiesa al pieno di sopra Cioè, non ci crede Non ci si sa Perché ci sono già stata nella chiesa al pieno di sopra Eh, ma non ci hai visto, infatti Ci siamo nascosti bene Magari siamo al pieno di sotto Sì, ma io Io mi sento un po' solo Siamo al pieno di sopra Siamo al pieno di sopra Ma proprio non mi volete No, Espi, vattene Ok Ma siete proprio sicuri? Espi Brutto pollo Ok Ma neanche un abbraccio Perché non ti sei fidata? Ma, Ferenichi, guarda verso l'alto Mi vedi spuntare con la testa? No, l'ho vista, l'ho vista Sta arrivando adesso Ma ormai è troppo tardi Guarda Eravamo davvero al pieno di sopra Sei contenta? Dove? Cocco! Dove vi? Ciao! Cocco! Dove eravate? Hai presente l'organo? Al pieno di sopra Dietro Cioè, l'ho anche sparato io quell'organo Ma noi eravamo dietro E lo so, non vi ho preso Ma, però non è giusto Dovevate nascondervi in oggetti Non dietro altri oggetti Noi ne l'abbiamo fatto Non l'hai specificato Baroni Questa volta voglio stare vicino vicino a Stef Ci nascondiamo tutti e tre Vabbè, allora sì Venite qua, venite in questo Mi sembra un buon posto Entrate che chiudo la porta Così non diamo indizi Siamo educati noi Scegliete un oggetto che vi piace E trasformatevi Io personalmente Sono un po' confuso Oh no Ho sbagliato il libro Datemi un altro libro Qualsiasi Perché? Perché non vuoi questo libro, Stef? No, no Mi piace molto Mi piace molto Aspetta Mi sto nascondendo dietro di te È un problema No, dai Va bene, va bene Condividiamo il nascondiglio Fai un po' di spazio, però Espi Muoviti È già partito Luca Porca miseria Stai lì fermo così Ma sono qua, sono qua vicino a te Non ci beccherà mai Sì, ma stai immobile Fere, lo vedi? Sì, io lo vedo Io lo vedo Ah, donnazione Ok Mantenete la calma Questo è per colpa Abbiamo un piano B Ogni volta fate capire dove siamo Cioè, siete terribili Ma come abbiamo fatto, scusami? Siete terribili Io non ho detto Non l'ha capito Io non ho dato indizi Siete davvero terribili Nemmeno io Ma fatemi capire Ma com'è la situazione? Aiuto Corri Corri Non ci credo Fere, 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 sei viva? Io sì, perché non vi seguo in queste idee terribili Non ho, non ho usato seguirvi Ma le nostre idee sono fantastiche Ma il tuo nascondiglio è bellissimo No, ma sei un genio Espi, l'hai capito? Sì, penso È geniale Cioè, sembra messo lì Dalla mappa Nel panico Mi sono messo Ma hai scelto anche l'angolatura proprio di proposito? Sì Arte Grazie Dovresti fare la foto per Instagram E scrivere hashtag arte Mamma mia Fantastica Luca, secondo me Se non ti diamo indizi Non riesci a trovarla Te lo dico Ha fatto davvero un bel lavoro Dovremmo dare qualche indizio Su No No, ma ci ammazza Espi, se dai un indizio in questo momento Fere ti ammazza Perché secondo me Vuole vincere il round Ikea Aia Dai Espi, però Non ho detto niente Verde Espi Quadrettato Cioè, fate schifo a nascondervi E ve la prendete L'unica che sta giocando seriamente qui Cioè, ma stiamo scherzando Alla mia Sono l'unica che sta prendendo questo gioco sul serio Cioè, ho pensato un bel nascondiglio e tutto Voi avete fatto una schifezza incredibile E siete sempre morti Continua Continua di suntarci E vediamo cosa succede Dai Provacaci Io non ci credo Bibliateca Allora, se muoio io non gioco più, eh Ve lo dico Se muoio io non gioco Fere, ma è così bello giocare insieme a noi No, fa schifo giocare insieme a noi È più divertente Aia Mi sa che ti ha scoperto Fere Scappola Corri Fere scappa La finestra Aia No, non la porta T'ho detto non la porta Non riusciva a saltare così tanto Guardate che mi è passato davanti 20 volte Mentre cercava voi Non mi aveva mai visto Sbaglio? Mancano pochi secondi Dobbiamo nasconderci ancora Sì, mi dovete muovere ragazzi Ah Tenta Quattro Luca, ci dai 5 secondi in più? Oh no Luca No, hai rovesciato Hai rovesciato quella cosa Ssh Luca, 5 secondi extra Non ci siamo ancora nostri Non puoi fare questo Espi, non ho scelta Non ho scelta Aspetta Non ho scelta No, Espi, va te Mi spazio Espi, non ci stai Sì, ci stai, hai visto? No, non ci stai Dai, Espi, mi fai scoprire È un bellissimo nascondiglio Non riesco a stare fermo dalle emozioni L'ha fatto anche come prima Rimaneva attaccato a me E si continua a muovere Lui è di nuovo perfetto E lui è attaccato È l'anti-nascondino per eccellenza È l'anti-nascondino, Espi Non c'è niente da fare Ma non riesco a stare fermo È troppo emozionante questo nascondino Io me la sto tentando Quello di Steph è geniale Infatti è buono Però vediamo un pochettino Se Luca lo capisce Li ho fatto vedere il mio schermo, Espi No, 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 grazie Non ti voglio Sono in Nicaragua Vieni a trovarmi Mi piace il Nicaragua Ci sono le tartarughe belle Arrivo Ok, prendi un aereo e vai Espi Il tonte di chi è partito? Mi sa il mio Corri, corri, corri Per fortuna che mi sono allontanato da lei Mi stai cercando, Espi? Sì, dove sei? Non te lo dico, Espi Dai, voglio stare vicino a te Sono nascosto più da te che da Luca al momento Se devo essere sincero Oh, arrivo allora Se vuoi un indizio Mi sei passato davanti E non te ne sei neanche accorto Il che indica che il mio è un bel nascondiglio Ah, qua c'era una porta aperta Un po' di sedie per terra Ok Dici che c'è qualcuno? Scusa, scusa Ferinichi Fosso lasciato la porta aperta Quando sono scappato Fai zitto Accidenti a te Interessante Oh mamma mia Espi ta mazzo Espi ta mazzo No Dovevi dire di sì Almeno magari se ne andava Dopo un po' Mi sa che Fer è spacciata Fer sta impacciando dalla web Io la vedo fare espressioni strane Perché non posso dire nulla Se non mi sento Espi non ti dico dove sono Non te lo dirò Un indizio No Un cosa che Luca non può capire No Mancano tre minuti e trenta E posso vincere per una volta E per ora Fer sta sopravvivendo alla grande Poi vi dirò come ho fatto Ok Poi ve lo raccomando Tu questo Scriverai un libro No Espi non sono io Espi sta Sta relazionando oggetti della mappa Oggetti finti Li sto abbracciando tutti Porca miseria Quindi non sei un cestino No non sono un cestino È l'unico indizio che ti do Espi perché non torni da Fer Che magari le do una mano Sì Arrivo No perché c'è Luca qui davanti Che non l'ha È morto Abbiamo vinto Si è autociso Allora adesso Luca ti dico che cos'ero Era una di quelle Di quelle Come si chiamano Cose di latta Che stavi colpendo Praticamente mi hai sparato due volte E mi hai fatto scendere a 70 di vita Io non mi sono mossa E hai pensato che fossi Una cosa finta Ma io ho sparato tutti Esatto Mi hai sparato Ma non mi hai ucciso Quindi sono rimasto immobile E tu hai pensato che fossi una cosa finta E non mi hai più toccato Fantastico Espi È presente il posto dove eravate Sì Ok C'era una macchinetta fuori Una macchina Non l'ho vista Una macchinetta delle bibite Era lui Io ero una macchinetta delle bibite fuori A dove eravate voi Quindi ero gigantesco E mi siete passati tutti davanti Senza accorgervene Ci siamo Andiamo Venite 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 Dobbiamo seguire Luca Luca portaci Non vale Non vale seguire Luca Luca è un genio Non vale E la porta Luca L'ho chiusa io per fortuna Non è che ha sentito il cigolare della porta Si confonde Dieci secondi cari Ma non è che se rovesciamo un po' di cose potrebbe scoprirci Due Uno Oddio Non era una buona idea Spostatemi Spostati Ok No lasciami Allora Ok Mettiamo una bella mitraglietta così non scappate appena entro qua Oh io riesco a vedere Steph Guardatelo Sì gli oggetti piccoli fanno i saltini bassi purtroppo Non dare indizi Vedi Ferraniki che anche tu dà gli indizi Eh ho detto solo un salto dai Che tanto siete oggetti piccoli l'avevo mezzo intuito Sì tutti oggetti piccoli mi raccomando Tutti quanti Uno più piccolo dell'altro Mi state prendendo in giro troppo? No assolutamente no Steph perché sei sulle strisce pedonali? Ok Oh Abbiamo le telecamere l'abbiamo messa dappertutto Steph non si spara alla chiesa No non sei nella chiesa donnazione Lui ce l'ha con la chiesa da due ore Cosa ti ha sparato dalla finestra? Non ci credo Non ci credo Com'è possibile? Non lo so Ma me lo chiedete Espi è scappato Ma io non capisco neanche come ci si sale Ok 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 Sono arrivato Ma noi abbiamo cambiato tutti posizioni Ci siamo spaventati da Luca Abbiamo tutti cambiato Ci siamo volati via In Messico Sì sì Certo certo Dove siete? Nessuno ha cambiato nascondiglio Steph sicuramente non sono nello sgabuzzino Non si sa mai Parlavate di cose geniali Quindi devo controllare ogni dettaglio di questo Io volevo mettermi nello sgabuzzino prima Senza neanche cambiarmi di personaggio Sarebbe stato bellissimo Sono morto È morto? Sì Festeggiando il suo cadavere Però in uno di quei barattoli mi sei passato di fianco E non è colpito proprio mai L'hai guardata per due o tre ore Nessun indizio Espi No dai Io ho viutato un sacco di indizi Luca qui è dove sono venuto a cercarvi prima Pensavo fossero andati qua a voi all'inizio Quindi ho perso un sacco di tempo qui Allora Io mi trasformo in questo Qui cosa c'è? Niente? Un po' mi conosci Eh sì che ti conosco Allora Allora Qua Ah ma forse è qua No non si apre Tutto chiudo Ah qua 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 Vai vai loce veloce 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 Dove siete finiti? Eh ci stiamo cercando di nascondere in tempo Non date indizi Non date indizi Dai dove siete? Allora Sì esatto Dai rispondete a Ferrenicchi Dove siete? Ferre hai capito? Sì Eh ma non provare a venire No sto facendo l'altra Buongiorno Ok ok Sto facendo gli affari miei Buongiorno Espy come sta? Buongiorno Oddio Io ho trovato due porte aperte Ma non so se sono aperte normalmente Eh chissà Ma come ci sono Prova a controllare No io non lo farò Ci sono delle scale per andare lì Ferre Ah ecco Lo sai Luca che ho sparato proprio lì A un certo punto Quando vi stavo cercando in questo posto Dove noi siamo che non possiamo nominare Ho provato proprio a sparare lì Nel dubbio in cui foste andati là con qualcosa di piccolo Perché parlavate di saltare E quindi pensavo che fosse andati lì sopra Nell'oggetto che non posso nominare Lo provo a fare? Vai I Oh mio Dio Dove siete? Espy non lo troverai mai stavolta Te lo dico Te lo dico È molto in alto Molto 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 Oh no È bellissimo È bellissimo Guarda a priori dell'efficacia È opera d'arte pura questa Siamo nella chiesa Come? Davvero? Unico indizio che avrai in tutta la partita Sì Hai 4 minuti e 40 per trovarci dentro la chiesa Vediamo se ci trovi Oddio Sì che siamo nella chiesa Espy È davvero Ma perché ti dovrei mai trollare Espy? Ma perché è una sedia? Mi hai chiesto un indizio E ti abbiamo detto che eravamo nella chiesa Scappa Luca Muori! No Ma come ha fatto a trovarti? Ora cerchiamo gli altri Vedi che eravamo nella chiesa Espy? Noi altri mica Allora era Luca il traditore Esatto Sì 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 Ha cercato di trollarti Non hai più alcun rispetto da parte mia Ti avviso che sei un po' messo male Lo so Luca Perché? Lo so Non è una delle innumerevoli bibbie che sono messe qui Non ho voglia di selezionare Ma porca miseria Sei un organo Stef? No non sono neanche quello caro Fere va appunto proprio sulla semplicità Sì sì Però è la cosa più efficace Infatti Espy si sta concentrando a trovare a me Aspetta Devo fare un pochino di parkour scusate È molto più semplice Luca so che stai godendo come non so che cosa Io mi si Lo so Lo so È il momento più bello della mia vita Nemmeno il matrimonio potrà compensare una cosa del genere È bellissimo Dattemi un indizio No ti abbiamo già detto la location caro Quindi trovaci Anche perché Fere credo sia facile da vedere Io vedo la sua scrittina Non mi sembra un gran caso nascondiglio No Non ce la fa Povero organo Ma che poi stai perdendo vita? Perché io quello ho ancora il dubbio come cosa Non lo so Si perde vita? In basso a sinistra lo vedi Espy? No Tutta la vita piena per il momento Ah ok Penso Tutta la vita piena Dovresti perderla Oh mio Dio Dove sei? Di sicuro Hai perso la vista in qualche modo Perché Non c'è altra spiegazione Continua a passarci sopra Io non ho parole Come? Continua a passarci sopra? Dove sei finito? Sapessi Sapessi Ai 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 Eh sì Eh sì E continuo Prima la prenderei Proprio con quelle sedie di Espy Guarda sono cattive Guarda io Ti farei fare una visita dall'oculista Al prima possibile In maniera proprio urgente Espy Guarda Guarda dove sono Espy Mi vedi saltare? Ma dov'eri? Dov'eri? Sotto la sedia Non l'hai visto? Ma no Ma dai Ma non è possibile Allora Io capisco non vedermi quando sono finito sotto una sedia In modo casuale Ma all'inizio Io ero sopra una sedia E le hai mosse tu quelle sedie Come hai fatto a non vederlo? In tre minuti dove lui è stato mezzo fluttuante nell'aria Perché hai messo la sedia Esatto E lui si è clicciato in mezzo all'aria Io non lo vedevo Era nascosto Direi che ci possiamo fermare così Credo che sia stato uno dei video più divertenti in assoluto del canale Bellissimo È stato davvero un qualcosa di epico Momenti davvero bellissimi Speriamo che vi sia piaciuto il video Quindi sondaggino Commenti like Se vuoi farci sapere Se volete vedere altri episodi della propante Spero di sì Perché è un qualcosa di davvero epico Insieme alla Gessu Permette di trollare Di nascondersi Di fare cose davvero fantastiche Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto E ci fermiamo così Per accederci così Se siete giocati Se siete giocati Se siete giocati E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima